È la mia seconda stagione con Crotone e mi trovo molto bene, sono felice di far parte di questa squadra e speriamo di ritornare in Serie A. Indossare la maglia della mia nazione è stata un'emozione fantastica, veramente unica e ringrazio il Crotone perché mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. È iniziato un nuovo anno e con il mister stiamo lavorando molto bene e con tanta intensità, stiamo seguendo giorno dopo giorno le sue indicazioni e mi sta dando tanti consigli e mi trovo molto bene. Siamo un bel gruppo, l'importante è continuare a lavorare intensamente e seguendo le indicazioni del mister sono sicuro che ci toglieremo belle soddisfazioni.